Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, è rinquissimo su vlog in montagna e per promesso Sì, allora Stiamo andando appunto a Nome di foto, ma perché è segreto di sto posto A cercare tutti E Nulla Ci vediamo dopo Allora ragazzi siamo pieni ascesi Ho preso il bastone E Questa voce qui è della mia nonna Che stanno prendendo bastoni La mia nonna è lì, è il giapponato, il mio nonna è ancora là Aspettiamo il mio nonna E poi partiamo Il mio nonna è a sistemare le cose su quella cantina, è ancora là Il mio nonna invece è andato là Saluta nonno Io, andiamo Tag life Allora Stiamo andando là Per prendere il sentiero La mia nonna ci aspetta Vai giù Quale cosa c'è? Quale cosa c'è? Vabbè Andiamo Ci vorrà un bel po' di minuti Taglierò Tante cose Comunque andiamo Nel bosco Raggiù un capanno E cacciatori Che ci sono solo cartucce E non fucili Questa roba Noi andiamo comunque Allora Siamo Andando giù C'è il nonna C'è una capetta Nanno Nulla Quando lo chiamo Nanno Lui fa sempre Oh Sì che Mi sarebbe a ridere Allora La mia nonna Ha visto qualcosa E ha trovato appunto Una verdona Mangiata Mangiata Che nonna buona Costone Tanto Che sai Mi nonna Sigla Oh no Aspetta Allora Aspetta Mi nonna Che è giù Oh no E che vuoi Davanti a te Sono andata E dove sono Ci vediamo dopo E mi nonna Ancora non si vede Da giù Ah no Oh Salento Ombra Tipo Va veloce Oh Eccolo Vabbè Allora Guarda Guarda Tutto Qui Tutto Il sentiero Tutto Lo resta Trembo E poi Rivelliamo La nostra Destinazione Che Andremo Più Avanti Rissorneremo La destinazione Ma ritorneremo Definitivamente Indietro In dove farò vedere La cosa Dopo ho mangiato Naturalmente Comunque Il nonno è qui dietro Va avanti Il nonno va avanti Il nonno è lì Che mi ha superato Che io l'ho superato Altrettanto Comunque ci vediamo Troppo Il nonno intanto Fa l'avventuriero È già là giù Mentre io sono qua E non Qua Avventuriero Fermati un attimo Avventuriero Fermati Grazie Grazie avventuriero Che mi hai fatto passare Vai Avanturiero Vai Tra poco Ci vediamo Tanti Minonna La mia Ho trovato Due verdoni E ho trovato Non ancora niente Questa è soltanto Non fa un gaccio Ti è assoluto Ammazzato Che fai? Mi sono ripassato un po' Che fai? Io che faccio? Faccio letto? No Guardate i miei anni Sono laggiù Io ero in testa Guarda se mi sono un po' riposato E loro che fanno? Andai avanti Lasciandomi sui Boh Aspetta li raggiungo Se li raggiungo Guarda che cosa li faccio E non ho trovato un altro fungo E che cacchi però è Eccoci finalmente Arrivati alla destinazione Tanti nonno vanno là Non si sa perché Io sto passando all'acqua Comunque vabbè Allora Faccio vedere Un po' Allora Adesso è una panchina Te l'adoro Adesso invece è la fonte di grudo Arrivo nonno Guarda laggiù Buonissima staccata che lo vedo un po' Oh che so che stavo a fesco la scala Allora Allora Qui è l'ultimo meta Poi dobbiamo rispondere alla cosa Per cercare gli ultimi Condi della giornata Oggi l'abbiamo fatto presto Comunque Ci vediamo tra qualche minuto E che Un fa un melodrama e via qua Se ne sentiero Ma senti da qua che sei là Via qua Sì io Sì è Guarda c'è un burrone Allora Questa avete appena sentito Io dicevo Ero il mio nonno Le avventure di nonno Elio Comunque Andiamo dal mio nonno Raggiungiamolo Facciamo un bello scherzo Il mio nonno Che riferendo tutti in webcam Mi arrivo troppo a qua Ho fatto uno scherzo Go Paura eh Paura eh Paura eh No 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 Ho fatto paura Era nel loro del precipizio Visto che è quello lì Che ho pensato Di scherzo Credevo lui Avesse fatto apposta Adesso li faccio un altro Bu Basta ora non mi fa più paura Mi sei cagato addosso E non ho trovato un fungo Questo ci è rimasto il gambo Guarda Lui non ho trovato un fungo Che non è per niente buono Eh guarda Mi è rimasto il gambo Comunque non è buono Questo ci era buono Insomma Tutto è mangiato E' solo mettere la borsa Poi anche Che fa? Perché prendi un gambo di fungo E non c'è nemmeno il fungo Ecco Guarda un pochino Non c'è niente Non c'è niente E che sarà mai non un gambo E tu E tu E tu vieni qua Guarda 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 Un porcino Anna Abbiamo trovato un porcino Fai vedere 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 io ci diamo dopo ai ragazzi ho trovato una verdona è buona sta verdona aspetta la colgo è cascata è cascata la verdona oddio è cascata la verdona oddio oddio non l'ho presa schifo c'è una romata addosso nonno vieni vieni ancora non c'è bastone qui che voi si vieni ancora aspetta un attimo dio santo guarda il porcino guarda il porcino oddio adesso vado a prendere un attimo il bastone e con fungo non buono e faccio così allora questo guardate cosa c'è qua sotto a me intanto il non avventuriero va a controllare naturalmente che fai nonno lì guarda guarda c'è qualcuno laggiù ancora laggiù andate zitta c'è un altro andate c'è un altro laggiù e non laggiù c'è un uomo laggiù che ci spia con altri due guarda 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 guard questo bel pulcino guarda ma è bello aspetta faccio un inquadratore c'è questo minuto che fa vedere è un po' malicioso io sono da sedere sono in pericolo di vita sto scherzando ladri di fogli sapete cosa fa? noi siamo passati proprio da lì ci ho visti in un'ontananza dello spiato e lui fu alle fasta di nuovo da lì per giocare a fuori ma se te lo trattate perché vi ho dato la quale di noi? vedi ci segue? cinghiali ci hanno circondato quindi sono nove attorno a noi tre su serio? sono tre là che non si vedono sono più quelli altri tre laggiù in fondo da ecco eccolo laggiù più un altro che proprio in fondo laggiù oddio comunque i capelli ho? ci vediamo di qua guardate se mi viene un attimo buongiorno buongiorno ho trovato una cartuccia di un fucile rc4 finalmente sono arrivati alla fonte nonni sono dispersi nella foresta grazie a tutti